salve a tutti ragazzi bentornati in questo nuovo video di... lo sapete da voi direzze del video allora vediamo quanto sto dicono 18 perchè stanno in carico d'oro quindi 18 dai possiamo ok io ieri ho fatto la mia comandone allora adesso mi hanno fatto una nuova play 4 con due joystick solo che l'altro sta dentro l'armadio qui gta 5 e batman e qui la play però adesso non posso giocare a gta perchè ci vuole 50 minuti rimasti perchè prima come si vuol dire prima la monta da oggi questo non è di giustica questa riga qua no questa c'è che viene da qua questo è la riga e cosa è quella luce vedete e io qua mi inizio a giocare con telecomando ah per cui le mie cuffiette le da un apri con una cuffietta soltanto perchè è poco fatta cosi e va bene ragazzi che dire però il video vi è piaciuto ci vediamo al prossimo video ma scusate ma scusatemi non ho fatto tanti video perchè avrei poco o meno ma ci vediamo al prossimo video adesso non mi piace ciao ciao ciao